Quale hai l'impressione su Juventus? È un sentimento incredibile perché è il più grande club in Italia per sicuramente e uno dei più grandi del mondo. Per me è un sentimento incredibile di essere qui. Tiago Motta ha parlato in un modo molto positivo su te. Quale è la tua relazione con lui in questi primi giorni a Juventus? Sì, lo vedo in media e mi ha significato molto per me. Perché una legenda, un ex-futbolista come questo, ha parlato di me in questo modo. È un sentimento incredibile per me, perché sono da piccola paura. È un sentimento incredibile. È un sentimento soddisfatto. Qual è la tua preferenza? o hai un modello quando sei un figlio? In Juventus? Non, in generale. In Juventus? Leo Messi è il mio idolo. Ma in Juventus è Zinedine Zidane. Zinedine Zidane per me è incredibile. Qual è la tua principale per questa settimana? Per questa settimana? Per questa settimana è più importante per me per crescere e per provare a me. Per andare da giorno per giorno per giorno per essere migliore. È la principale. È la principale. Hai un messaggio per i giudici? Cosa ti senti a promessa per i giudici? Cosa ti senti a promessa per i giudici? Cosa ti senti? 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 Possessi descrivi? Cosa ti senti? Hai autore di giudici? Per il mioinario.... Io non ho parte del lavoro. Ma... Sono Azic. E voglio creare il mio nome. Vucinici è Montenegrin poiché. Sì, gioca in Juventus e ha una storia incredibile. Hai parlato di lui e Gucinic ti ha dato alcuni consigli per la tua esperienza di Juventus? Non ho parlato con lui, ma credo che vorrei parlare con lui, per sicuramente. Quando arrivo in Montenegro, per sicuramente. Quali sono le vostre posizioni preferite? Posso giocare con quello che il coach vuole giocare. Per me, potrebbe essere attaccare il midfielder, ma potrei anche giocare come un central midfielder. Ok, grazie.